L'andamento dei listini è stato molto positivo, questo per carità ovviamente fa piacere e alimenta i guadagni di chi è già in posizione ma crea degli inevitabili problemi a tutti coloro che devono prendere posizione anche per eventuali rimborsi anticipati che sono scattati nel frattempo. Quindi la ricerca di strumenti che possano generare rendimenti e nello stesso tempo adeguata protezione sta diventando abbastanza difficoltosa. Te ne dico una su tutte, l'ultima emissione di Atena Certificates che abbiamo presentato e anticipato proprio sette giorni fa, che poi è stata anche analizzata sul Certificate Journal come ci eravamo lasciati proprio con questo annuncio. Ecco praticamente sui titoli bancari, in particolare su Unicredit e su Intesa San Paolo i prezzi sono già cresciuti del 4% e quindi rispetto al nominale e pertanto acquistare a questi prezzi diventa un po' difficile. Quindi in quest'ottica per cercare di sfidare quel rischio di immobilismo causato dalla paura di entrare sui massimi abbiamo individuato nei Fix Cash Collect la struttura probabilmente più adatta. Perché? Perché i Fix Cash Collect sono certificati, Cash Collect come struttura ormai ben nota, ma hanno la particolarità di pagare la cedola in maniera incondizionata e questo chiaramente ci aiuta nel momento in cui dovesse esserci una fase correttiva sui mercati. Grazie! Grazie! Grazie a tutti!